Allora, conferenza di Conte, dopo c'è delle cose interessanti perché lui è incazzato nero sulla fuga di notizie, tre volte l'ha detto, non una, due, tre, però c'è un'altra roba che, lascio la parola al grande Menghi che torna con qualcosa di interessantissimo sull'Europa, c'ha ragione, poi vi dico della conferenza di Conte dove il succo è la fuga di notizie, bisogna crescere fuori dal campo, Sanchez non è pronto, Luca così, e poi delle robe, e di nuovo il discorso dei bu, e Conte che ci parla dell'Inghilterra, sono tornati in Italia, non avete fatto passi avanti, però voi giornalisti pompate le cose, non ha capito Conte come funzionano i media in Inghilterra, che fanno squadra, perché là funzionano, ascolta Conte io ti voglio bene, però in Inghilterra, anche io ti voglio bene Conte, siamo contiani, però sulla prima pagina dei giornali inglesi c'è l'economia, non c'è la politica, non ci sono ancora qua, la politica è l'ottava pagina, in Italia è solo politica, quello fa il partito, ok? Quindi là fanno squadra per fare i soldi, ti vorrei ricordare caro Conte che in Inghilterra c'è stata una lotta agli operai italiani, ma una lotta nei porti, neanche gente che porca puttana va negli uffici a lavorare, contro gli operai italiani, che in nessuna parte del mondo sta fatta, ok? Non tiro fuori il Belgio, ok? Dico che in Inghilterra hanno rotti i coglioni e gli operai italiani, io ho vissuto in Inghilterra 87, 88, 89, io venivo schiacciato col mio skate, se non ne ho sulle strisce, mi dicevano fuck students, sui cazzo di cab inglesi, andavo a vedere Wimbledon, andavo a vedere le squadre, il West Hampton, che è dove abitavo io, io non accetto lezioni, mi viene da bestemmi... La violenza in Inghilterra c'è ancora e c'è anche... Parla a te, parla a te perché io le stronzate di Conte... La differenza tra noi e l'Inghilterra è solo che qua basta un mezzo coro di 10 persone, oppure 4 schiaffi che si tirano qualcuno, che viene spuntato in prima pagina, violenti scontri, bruciate macchine, in Inghilterra si ammazzano di botte, nei pub si danno gli appuntamenti, fanno ancora il pitch invasion, fanno ancora... La differenza è che cosa? I media oscurano, perché dall'alto c'è qualcosa... Fanno ancora le invasioni! Fanno le invasioni, certo che fanno le invasioni, invasioni di campo... E gli appuntamenti l'anno scorso, cos'era? Sotto il... Mewel Chelsea, sotto il tunnel... Alla stazione, la violenza è fuori dallo stadio, ma anche dentro perché il pitch invasion c'è ancora e ne fanno... E basta che andate su YouTube e guardate, scrivete pitch invasion in Inghilterra, vi spaventate... Ma si sono ancora picchiati in campo in Inghilterra, mi pare... Solo che loro oscurano, sono omertosi da questo punto di vista, non buttano sui giornali, non pompano la notizia, perché per gli sponsor gli conviene tenere indietro, quindi nascondono, nascondono... Senza contare le invasioni di quelli nudi, di quelli nudi che vanno dentro, pisciano, tirano fuori il cazzo, ne fanno tutti i colori, ne fanno... Quindi sono tutte palle! Gli huligan ci sono, anzi, gli huligan dopo un attimo di arretramento all'inizio degli anni 2000 si sono rifatti vivi... Basta vedere gli scontri a Francia con i russi, basta vedere gli scontri... No, ma la morale, cioè scusa Conte, noi ti vogliamo bene, ma gli argomenti che non sono i tuoi non ci venire a raccontare niente, perché poi se cosa c'è? Che i tifosi... Ma persino in Spagna la violenza... In Spagna c'è stata una repressione cento volte più grande dell'Italia, in Spagna ci sono i morti, ci sono stati i morti... Ci sono stati i morti... No, cos'era? No, Valencia? Oviedo, Tretico Bilbao... Ah, sì? Sporting Guillaume, ma via, i morti ci sono stati, oh! Però... Cosa stiamo parlando di che cosa? Cosa stiamo parlando di che cosa? No, ma io non accetto la lezione di uno Stato o di una nazione calcistica dove il calcio è nato, dove ci sono, io sono stato, librerie, film, documentari sulle firm, giusto? Le firm sono ancora numerose, anzi, ci stanno... le nuove... c'è stata una generazione... Ma possiamo prendere lezioni? No, dall'Inghilterra mai... Da uno Stato che dice, dopo le tragedie delle Isel, che ha sistemato tutto e non è vero... Non è vero... Ma l'anno scorso... Loro fanno vedere che... Bravo! È l'immagine, solo l'immagine interessa là... Ma la realtà non è così... Il razzismo dove? Nessuno... Non esiste il razzismo... Sono stato tre volte in trasferta in Inghilterra e... Sì, la polizia avrà più potere che qua da noi e tutto, ma... A contato si viene ancora e... Non dico altro perché sono cazzi miei... Bravo! A me le robe di quando mi fanno moralismo, che sia Conte o che sia Mattarella, sulle robe che ho visto io, che abbiamo vissuto noi e che sappiamo tutti... Se siete boccaloni che credete a quello che dicono i giornali, credeteci voi, io parlo dei fatti concreti, vissuti in prima persona... Io e il Menghi siamo stati in Russia centinaia di volte... Lì sì che... Allora, io ti dico due cose... Una volta siamo andati che c'era... Russia era ancora il 2006... La qualificazione... 2006 era... Eravamo sull'aereo con gli unicans inglesi, con le camicie dei Barberis, tutti casual, che sono nati a Mosca e volevano fare i buffoni... Non si è mossa una paglia... Anzi, le hanno anche prese in Piazza Rossa, perché c'era... Hanno giocato allo Zmi... No... Allo Znichi... Esatto, c'erano tre cordoni, 2006, di polizia inglese, poi loro non si sono qualificati in quella partita e non sono andati in mondiali, infatti... Certo... Non sono andati o in mondiali o gli europei, mi ricordi più... 2006-2007... 2007, loro non sono andati agli europei in... In Austria e Svizzera, lì non sono andati, perché sono stati eliminati dalla Russia... Non guardiamo cosa poi... La Russia di capello... Esatto, non guardiamo cosa è successo invece negli europei dopo, negli mondiali in Francia, ok... In Francia gli scoti russi... Io sono il primo a dire che in Est Europa... La Marsiglia... Che in Est Europa... Marseille... No, ma in Est Europa... Io sono il primo a dire che le tifoserie dell'Est Europa... Sono cazzute quelle... Sono le più pericolose... Certo... Sono di radice, anche politica... Molto di destra... E sono, esatto, sono veramente terribili... Che si parli di Kiev, che si parli del Legge, dove sono stato, che si parli di... No... Noi se... Per non parlare di Belgrado... Per non parlare di quello... Esatto... Però... Ma comunque... I bad blue boys Zagreb... L'Atalanta... Esatto... Quindi non vediamo... Ma ti ricordi di Mosagabria, Atalanta del 89... Quella si carabella... È successo a Bergamo... Vabbè, comunque... Io non accetto lezioni... Prendiamo al calcio... No, le bugie... No, perché io... Le palle... Io amo il mio paese... Amo l'Italia... Io le cazzate non le voglio sentire... Neanche da Conte... Parliamo di calcio che è meglio... Che siamo contiani... Esatto... Noi siamo contiani... Fino a che non ci va a lezioni di vita... L'Inghilterra, eccetera... Ok? Allora... In Europa come si gioca? In Europa o scendi in campo? Torniamo a Inter Slavia Praga... È un po' che manca il grande league... No, io... Abbiamo anche il riflesso... Siamo dei santi... Io ho constatato... Vedendo che i recenti risultati... Dite lo di Anguois... Che mi interessa... È bellissimo... I recenti risultati di Champions... E di Europa League... Che si è chiusa ieri... Ci sono state abbastanza delle sorprese... Non per me... Ma per tanti sono state delle sorprese... Come ad esempio... Quattro scopole prese dall'Atalanta... A Zagabria... Io lo sapevo che l'Atalanta perdeva... Perché la Dinamo Zagabria... Ha una storia europea... L'Atalanta non ce l'ha... Quindi in Europa deve avere storia... Deve avere abitudine... Devi sapere scendere in campo... Con i controcoglioni... Non solo contro il Real Madrid... O il Barcellona... O il PSG... Ma con lo Young Boys... Ma con lo Young Boys... La Juve l'anno scorso è andata a Berna... E è tornata a casa con le orecchie basse... Ha perso... E lo Young Boys... Voi direte chi cazzo è lo Young Boys... Young Boys ha battuto la Juve l'anno scorso... Ragazzi... La Juve di Ronaldo... È così che funziona... Se non scendi in campo con i controcoglioni... La Lazio va a Cluj... E a perde... È vero... Non c'è niente da fare... O scendi in campo... Con i controcazzi... Oppure no... Perché qualsiasi squadra... Che gioca... O in Europa League... O... In Champions... Ma caspita... È una squadra... C'hai ragione... È una squadra preparata... Sa quello che deve fare... Dopo... Alcune hanno i loro limiti... Ma se tu... Non sei cazzuto... Non fai vedere i limiti che hanno... E anche lo Slavia Praga... Viene a San Siro... A portare via un pareggio... Non ci sono palle... Soltalmente da quando con te... Che noi che siamo contiani... Ma siamo gente onesta... Devi essere cazzuto... Ti faccio la domanda... Ma proprio con Conte... Deve succedere questo... Lui è la cazzutata... Come mai? Perché Conte... Purtroppo... Purtroppo per noi... Ma... Si sapeva... Conte... Che non è scemo... Lui sa che c'ha... Una squadra... Ossia una rosa... Dal mio... Dal mio punto di vista... E dal suo punto di vista... Di sbarbati... Di sbarbati... Che non è ampia... Perché l'Inter... Come tu hai detto in un video... Tolti gli 11... 12... 13 titolari fissi... Fa ridere... Gli altri... Non sono all'altezza... Parliamoci chiaro... I rincalzi dell'Inter... Quindi non può fare un turnover... Di quelli seri... Non siamo la Juve che c'è due squadre... Perché le riserve della Juve... Non sono le riserve dell'Inter... Ma se Sarri si è lamentato dei cagli... Ma Sarri può andare a fare in culo... Comunque... Non abbiamo questo... Non abbiamo questo numero di giocatori sufficienti... Per fare un turnover serio... Ossia... Fuori uno dentro l'altro cambia poco... Invece fuori uno dentro l'altro cambia tanto... Certo... Oltretutto... I nostri... E l'ha detto oggi in conferenza stampa... Non hanno... Non hanno l'esperienza... Ragazzi... A parte Lukaku... 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 Ho preso gli appunti... Lui ha detto due cose... Noi abbiamo... I nostri giocatori che hanno più esperienze... Di Champions League o di Europa... Sono Lukaku e Godin... È vero... Gli altri che cazzo di esperienza hanno... Infatti faceva notare... Ragazzi... Prima il Menghi... Prima faceva notare... Anche Conte ha detto... Massimo dieci partite hanno fatto... No... Che la sua prima Juve... Non solo la poteva allenare di più... Perché non faceva le coppie... Che per lui comunque è importante... Le coppie per lui al primo anno... Come quest'anno... Primo anno la Juve... Primo anno all'Inter adesso... Per lui sono un ostacolo... Perché lui vuole avere i giocatori... Sette giorni su sette a disposizione... Per inculcargli la sua mentalità... Quando io dicevo che Conte veniva anche senza coppa... E la gente diceva che non era vero... Io diritto... La gente sono dei buffoni... E io diritto dicevo... No ma che Conte sarebbe quasi felice... Certo... Anzi Conte... Se non fai la Champions... Non voleva neanche l'Europa League... Niente via... Lui vuole i giocatori... Sette giorni su sette a disposizione... L'ha detto in conferenza stampa adesso... Per inculcargli la sua mentalità... Le sue idee e il suo modo di gioco... Ma infatti... Io ti faccio una provocazione... Ma poi allargo la domanda... Ai ragazzi che ci seguono eccetera... Ma non è che la Juve ha scelto l'obiettivo... Che è la Champions... Così come l'Inter ha scelto l'obiettivo che ha il campionato... È palese che l'Inter ha scelto il campionato... Che l'Inter abbia scelto il campionato è palese... Che la Juve abbia scelto solo la Champions... È tutto da vedere... Perché io non ci credo perché... Io non vedo quest'anno la Juve... Attrezzata per poter puntare solo ed esclusivamente la Champions... Perché ci sono altre squadre che sono sopra la Juve... E invece io ti dico che quest'anno... A Reale e Polveriera... Barcellona... Il City... Quest'anno è l'anno del City ragazzi... Quest'anno è l'anno del City... Ogni anno... Ne parlavo con mio fratello prima... Allora... Ci sono stati dei cicli... Se prendiamo la storia delle coppie campioni... Ci sono stati dei cicli... Il ciclo del Milan... Con la M o con la B? Con la B... Però noi ci sono i coglioni di dirlo... Però c'è stato il ciclo del Milan... Poi finito il Milan... È arrivato... Dopo un po' di anni... Hanno fatto un po' per uno... Poi dopo è arrivato il ciclo del Barcellona di Guardiola... Guardiola e altri hanno vinto due o tre o quattro... Un po' di finali... Un entro l'altra... Un semiciclo Bayern... Perché il Bayern ha fatto... La finale è persa con noi... Finale è vinta con Borussia Dortmund... Finale è persa in casa... Sì... Mezzo ciclo Bayern... Poi è arrivato il ciclo nel Real Madrid... Che ha fatto... Dentro e in mezzo... In mezzo a questo... Il Chelsea... Mi spiego una cosa... Il Milan... Il Milan ha vinto le Coppe Campioni... Perché aveva Silvio Berlusconi... Presidente... E a Silvio Berlusconi... Quel giorno che ha compratto il Milan... Fallito... Serie B... Il Berlusconi ha compratto il Milan... Perché lui ha detto... Io voglio vincere la Champions... Ma lui... Berlusconi non ha voluto vincere la Champions... Per il Milan... L'ha voluto vincere per se stesso... Per l'ego personale... Abramovic... Ha comprato il Chelsea... Non perché lui era bambino... Era trifoso del Chelsea... Lui ha detto... Io voglio vincere la Champions... Io... Roman Abramovic... La voglio vincere... Chi è che c'è in vendita? Ah... C'è il Chelsea in vendita... Londra... Mi va bene... Lo compro... Vinciamo la Champions... Ha investito un sacco di soldi... Finché non ha vinto la Champions... Appena l'ha vinta... Ha cominciato a tirare il rim indietro... Adesso ci sono gli sceicchi... Che hanno combattuto il City... O il PSG... E vedrete che nei prossimi anni... Se non quest'anno... Penso io... Quest'anno per me è l'anno del City... Vinceranno la Champions... Perché il loro obiettivo... De uno sceicco è... Io sceicco... Ho vinto la Champions... Non il PSG... E ma... E ma... Allora ci vuole cosa... Allora vediamo... Vediamo se i nostri cinesi... Su Ning... Vogliono che... Su Ning vinca la Champions... O l'Inter vinca la Champions... Perché ha comprato l'Inter? Ha fatto un'intervista... Perché ha comprato l'Inter? Zang l'ha detto chiaramente... Quando io raccontavo che non erano... Dai dillo... Quando io raccontavo che non erano convinti... Che non erano entrati nel pianeta intercalcio... Oggi Zang... Dopo tre anni... Che io parlo e la gente... Buh 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 buh... Zang ha detto... Non avevo mai visto una partita... E non avevo capito bene... Dove cazzo ero posizionato... Dove ero posizionato... Ergo non facevo niente... Non perché non avevo la pila... La fresca... Ma perché non sapevo come muovermi... Capito? E quindi adesso... Cioè se gli dicevi... Guarda che basta che sposti Ramirez da qua... E lui diceva... Capito? Adesso che ha capito... Un po' così è... Lui si lamentava molto... C'è un problema... Zang Jindong? No... Stefano Zang... Era la Bocconi con... Con Monociglio... E dicevano lì insieme a Daniel... Lui diceva che praticamente... Le partite in Cina si vedono letta di notte... E la gente guarda gli highlight... Cioè guarda il riassunto delle partite... Allora per quello che la Juve... Allora il grande problema della Cina... Che è Zang ha delle grandi piattaforme... Sì... Allora secondo... Non è che non vogliono investire... Quindi avranno il potere di cambiare le nostre abitudini di orario... Potrebbe succedere che il Mondiale in Corea 2002... Che te chiede... Vassi io ai voti mattina... Capito? Perché alla fine... Io non credo che possano farci giocare il derby l'ottimattina... Però ti dico... Però loro sono in grande crescita economica... Sono in grande crescita... Ma i orari del calcio sudamericano... Europeo, sud-europeo... Non possono cambiarlo... Quindi lui dice... Lui oggi ha forzato l'anno... Se non si può far quello... Non sono neanche spinto troppo a... Ah... Mi fai... Mi dici una butta notizia? No adesso non... Ragazzi... Io non ho letto tutto... Perché poi mi sono interrotto... Perché stavo leggendo... E mi ha trachiamato... Non è bellissima come notizia... No ma la questione è... Che non è superabile... Perché ci sono degli orari... Sì fuso orari è fuso orari... È quello lì... Non è che puoi superarlo... E poi tra l'altro è proprio una l'inloga notturna... Allora io dico che... Prima o poi lo supereranno... Perché lui parlava di top partite... Ah... Quindi... Giocheremo 0-10 del mattino... Beh ma l'anno scorso... Quando è che abbiamo... A me da 12.30 c'è stato già una volta... Capisci... Potrebbe essere che tutte le partite clou... Le facciano un orario... Speriamo proprio di no... Perché io... Sono disposto a non vincere un cazzo... Ma non voglio cambiare le mie obitudini... Per un Zhang Jindong... O per un... Però tu stavi dici... O un King Bing... Dai... O un Bruce Lee... Che cazzo vogliono? Se fate in Cina... Mangiate il riso... Non rompete i coglioni... E beh... Allora... A questo punto no eh... Ti dico di più... I cinesi... Te ne ria parlavamo del PSG... Allora il PSG mi raccontano a Parigi... Anche gente molto addento che... Per dire... Quando hanno perso in Barcellona... Quella rimonta là... Eh... La sera sono stati a festeggiare... Non è il giorno che poi... Da Gras Costa ha sfasciato tutto... I giocatori... Mi pare che... Sì... È Hollywood... Parigi è Hollywood... Quindi è difficile che per me il Paris Saint-Germain vinca... Perché è Hollywood... Ok? Vedi che Neymar si permette di dire... Prendo, vado, faccio, forno... Sì, sì... Il sito è diverso... E infatti i cardi sta bene là... Il sito invece è un po' più diverso... E sarà per... Perché comunque sono... Con rischio di essere sessuale... Sono English... Non perdono certe robe... Però io una squadra più forte di un'altra... Quest'anno in Champions non la vedo... No neanche io... Però la Juve la vedo sotto a meno 4 o 5 squadre... Perché? Per il centrocampo? Ebbene... Noi non abbiamo il centrocampo... E non abbiamo un esterno decente... E quello ti dà ragione... E Lazzaro ti piace? Lazzaro mi fa schifo... Ma non perché l'ho visto l'altro giorno che ha fatto ridere... Ma perché... Sinceramente io vi dico... Prima cosa non sapevo chi era... Quindi già un giocatore che mi arriva... Dal nulla... Che non è famoso... Dico... Ma... Ho due dubbi... Pagato... Dicono che lui è stato pagato così... Seconda cosa... Come l'ho visto entrare l'altro giorno... Lo stesso manager... È entrato molto male... Stesso manager di... Pastorello... No... Lazzaro... Pastorello segueva... Lazzaro è un flop ragazzi... Purtroppo è un flop... È un flop... Non è Maicon... Dai... Per piacere... No ma il problema è che... Noi ci è andata bene con Maicon... Ma Lazzaro no... Il problema è che... Lazzaro alza ti cammina... E D'Albert... E' un D'Albert 2... E' un D'Albert 2 la vendetta... Niente... Ascolta... Vuoi sapere uno che non mi piace? Dai... Asamoah... Tu lo sai dallo scorso? Sì... Anche a me non piace Asamoah... Però almeno... Non riesce a difendere... Non riesce a... Non è Lazzaro Asamoah... Dai... Per piacere... No... Lazzaro è peggio... Allora... Per quello che abbiamo visto... Comunque io... Mi viene indistinto di tornare su un video che abbiamo fatto... Un mese e mezzo... Più o meno un mese e mezzo fa... Mi viene tornato ancora lì a me... A battere il chiodo su... Perché alla fine i fatti mi sono... I fatti mi sono dando la ragione... Mi stanno... Vi ricordate? Che tutti eravate contro di me... Sì... Allora... Posso... Allora... Mi... Da quel video lì... Video di replica! No... Faccio mia... No... No... Faccio mia... Mea culpa sono su Sensi... Che su Sensi ho sbagliato... Eh... Quando uno sbaglia può ammettere... Certo... Io lo ammetto... E sono contento di aver sbagliato... Non è che viviamo di calcio... Sono contento... Per fortuna vivo di altre cose... Comunque... Sono contento di aver sbagliato su Sensi... Su Sensi ha sbagliato tutti... Anche chi l'ha venduto... Sono contento... Anche chi l'ha venduto... Scusami... Per fortuna l'hai presa nel culo... Non l'ha presa... No... Nel senso che se io so che ho... Costava di più... Se ho un nuovo sciabino vende a 50... E ti spiego perché... No... Su Sensi sono contento di aver sbagliato... Mentre risponde...